Oltre 90 milioni destinati a nuovi edifici, acquisizioni, ristrutturazioni e interventi di sicurezza e sostenibilità energetica. Questo è il programma edilizio triennale 2019-2021 dell'Università di Verona, presentato a Palazzo Giuliari. Il rettore, professore Nicola Sartor, illustra i dettagli del progetto. Annualmente rinnoviamo il programma triennale che vede diversi livelli di esecuzione. Ci sono alcuni edifici che stanno per essere cantierati, altri che sono ancora progetti in attesa che si concretizzino le condizioni per poterli realizzare. Ciò che sta per essere cantierato sono un edificio a Borgo Roma per le attività biomediche, uno non troppo lontano da lì a Cavignal per la parte relativa alle scienze, sia informatica sia biotecnologie. Stiamo per acquistare Villa Lebrecht, che ricordo dopo aver recentemente acquistato una porzione di Villa Eugenia, per la quale stanno anche partendo i lavori di allestimento dei laboratori, è un rafforzamento di tutto ciò che riguarda l'area della viticoltura, enologia e dei mercati vitivinicoli. Abbiamo anche una palazzina che abbiamo ricevuto anni fa da un lascito ereditario vicino a Castelvecchio, quindi di grande prestigio, che per volontà dei donatori deve essere dedicata a ospitare studenti e docenti dell'area medica. La linea strategica dei prossimi interventi è motivata dall'andamento costante delle iscrizioni e dal numero complessivo degli studenti e del personale tecnico-amministrativo di Ateneo, come sottolineato dalla direttrice generale Giancarla Masè. Lo spazio è fondamentale assieme alle persone per quanto riguarda il contesto universitario, quindi serve spazi per studiare, serve spazi per fare buona ricerca e quindi questa è una scelta anche richiamata nel piano strategico di costruire degli spazi adeguati per l'apprendimento, lo studio e la ricerca.